più continuo a spiegare alle persone quale sia il segreto per ottenere il massimo del comfort nella propria abitazione con la minor spesa energetica possibile più ricevo critiche non che questo mi spaventi mi dia fastidio ho imparato a convivere con tutte quelle persone che esercitano una professione solo perché l'hanno imparata da qualcuno da qualcun altro ma non hanno mai avuto la possibilità di approfondire la conoscenza sui libri di scuola o in situazioni al di fuori del mercato italiano ma voglio arrivo a dire il concetto più semplice e fondamentale che si cela dietro ad una centrale termica efficiente che lavora in simbiosi con un'abitazione in cui il benessere è garantito 24 ore su 24 non importa che tu abbia una casa di ultima generazione o un'abitazione realizzata negli anni 60 non importa se tu per riscaldarti usi dei termosifoni in ghisa o in alluminio piuttosto che un impianto radiante a pavimento perché perché i due aspetti fondamentali che ti porteranno ad avere un'abitazione senza gas che ti garantirà comfort 24 ore al giorno è fatta da due t la prima è quella della macchina che sceglierai per riscaldare casa tua ovvero t come termopompa professionale sono macchine progettate principalmente per fare acqua calda quando le temperature esterne sono molto fredde sono macchine testate per garantire un funzionamento proprio nei momenti in cui ne hai più bisogno ma devono anche essere progettate seguendo dei rigorosi protocolli che sono diametralmente opposti a quelli tipici italiani e di conseguenza devono essere installate da persone che hanno molta dimestichezza con quei sistemi non sono pompe di calore di derivazione orientale tipicamente sono macchine con pesi e dimensioni molto più abbondanti che ti possono garantire funzionamenti ottimali anche a temperature esterne al di sotto dei 15 o dei 20 gradi la seconda t invece è fondamentale non solo se un impianto in pompa di calore è fondamentale ad ogni condizione ed ogni abitazione che tu ti trovi a vivere il segreto per avere il miglior comfort con la minor spesa di energia possibile è quello di scegliere una temperatura e mantenerla costante durante tutta la fase invernale i nostri nonni ci hanno abituato ad accendere i sistemi quando siamo a casa ed a spegnerli quando andiamo via ma a lungo andare ci siamo accorti che il modo migliore per ottenere il massimo spendendo sempre di meno è quello di limitare il più possibile l'oscillazione della temperatura in casa certo se durante il giorno a casa non c'è nessuno puoi abbassare la temperatura di un paio di gradi come se ti piace dormire su stanze più fredde rispetto a tutta la casa sicuramente puoi controllare la temperatura di quelle stanze in diversi modi ma è fondamentale sapere che per ottenere il benessere maggiore devi limitare il più possibile l'oscillazione di temperatura e mantenere tutti i tuoi ambienti a temperature gradevoli a pensarci il motivo è molto semplice se tu mantieni una temperatura costante all'interno dell'ambiente i muri stessi ti ritornano la temperatura gradevoli che imposti e saranno i tuoi primi alleati contro le fredde giornate invernali se invece continuerai a far raffreddare la massa ogni volta che accendi il tuo sistema di riscaldamento dovrà fare uno sforzo enorme e quindi tu sosterrai una spesa energetica sempre più alta per portare ad una temperatura decente i tuoi ambienti permettimi la ridondanza dell'informazione e la ripetizione pura ma puoi ottenere il massimo di benefici sempre e solo quando abbini una termopompa professionale al tuo impianto di riscaldamento anche se hai termosifono in alluminio o in ghisa e inizi a mantenere una temperatura costante durante tutta la fase invernale facendola oscillare il meno possibile se vuoi saperne di più e vuoi capire come sfruttare al meglio le nuove tecnologie anche nella tua abitazione clicca nel link che trovi sulla descrizione del video e compiere il form che trovi per ottenere la mia analisi telefonica per oggi è tutto alla prossima grazie a tutti